Il ministro dell'interno Matteo Salvini chiude i porti italiani ai migranti del mare. La nave Aquarius, con il suo carico di 629 persone recuperate nel Mediterraneo negli ultimi due giorni, si ferma 27 miglia a nord-est di Malta, in acque internazionali 35 miglia lontano dalla Sicilia. Malta, ancora una volta, si rifiuta di farsi carico di una nave e dei suoi ospiti, 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte tra gli altri. In una nota congiunta, il ministro dell'interno e quello dei trasporti italiani Danilo Toninelli insistono, il governo maltese deve accogliere la nave, noi continueremo a salvare vite. Interviene anche il premier Giuseppe Conte. Abbiamo inviato due motovedette con medici. Malta non dà soccorso umanitario. L'Italia è in totale solitudine, bisogna cambiare le regole di Dublino. Cinque sindaci che si ribellano, Napoli, Reggio Carabria, Taranto, Messina e Palermo lanciano un appello ad Aquarius, attraccate da noi. Ma il pugno duro dell'Italia ottiene finalmente la risposta di qualcuno. Il porto di Valencia, in Spagna, viene messo a disposizione. È nostro obbligo aiutare a evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone, rispettando così il diritto internazionale, spiega il premier spagnolo Pedro Sanchez in un comunicato. Mentre Malta, nel suo piccolo, ha continuato a rappresentare l'atteggiamento dell'Europa, quello cioè di ognuno che pensa a se stesso, lasciando l'Italia schiacciata in una situazione ingestibile, è necessario richiamare bruscamente tutti gli altri paesi europei ad uno sforzo comune, ma anche coinvolgere tutta l'Africa del Nord con iniziative bilaterali che aiutino a contenere il fenomeno migratorio, evitando così di mettere a rischio altre vite. Dopo il fallimento clamoroso del G7 canadese, la narrazione dell'informazione mainstream fa ricadere le responsabilità della spaccatura sull'America di Trump, che vorrebbe chiudere le frontiere a danno degli altri paesi industrializzati, creando gravi problemi all'economia mondiale. Tutti però si guardano bene dall'entrare nei particolari, per spiegare bene le cose. A tale proposito, è sufficiente consultare i dati messi a disposizione dalla World Bank per accorgersi che la narrazione proposta stride con i dati. Secondo la World Bank, la Germania ha accumulato un export enorme, pari al 46,16% del suo prodotto interno lordo. Un enorme squilibrio, che non può non portare alla mente l'antica dottrina tedesca dell'Ebbensraum, ovvero dello spazio vitale nel quale la Germania esporta la produzione in eccesso del suo enorme apparato industriale. Dottrina che storicamente ha portato agli enormi disastri della prima e della seconda guerra mondiale. Dunque non sono gli Stati Uniti a voler chiudere le frontiere, ma è la Germania a non voler porre in essere le politiche necessarie per sanare l'enorme squilibrio e continuare così ad invadere i mercati americani grazie alle tariffe del World Trade Organization ultra favorevoli. Una situazione insostenibile per gli Stati Uniti, che hanno a tutt'oggi da fronteggiare un'enorme tragedia sociale degli sconfitti della globalizzazione. Basti pensare che 44 milioni di americani si sostengono con il cibo che gli viene passato dal governo grazie al programma federale degli Stamp Food. Una situazione ben capita dall'altra grande fabbrica del mondo, la Cina, che sta rivolgendo la sua enorme produzione verso il mercato interno e sta trattando con gli USA delle nuove tariffe per l'export più equilibrate. La Germania, con l'Europa al traino, ha scelto la strada della disinformazione e del vittimismo, facendo aumentare, se possibile, l'ira di Trump e degli americani. Siamo in attesa dell'aumento dell'ira anche degli europei. Avere la Russia isolata non conviene a nessuno. Quindi ho rappresentato l'auspicio mio e dell'Italia che ci possa essere quanto prima un G8 con la Russia seduta al tavolo. Parole di Giuseppe Conte al G7 di Charlevoix in Canada. Sarebbe stato bello se ci fossimo parlati prima, ha commentato la cancelliera tedesca Angela Merkel, spiegando che il premier italiano ha reagito velocemente alla proposta di Donald Trump di riaprire a Putin. Ancora più velocemente, però, Berlino ha saputo riportare Roma sul binario europeo, contrapponendo all'America First di Donald Trump un'Europa apparentemente unita. Tanto che sul comunicato congiunto finale, che sollecita alla Russia a cessare il suo comportamento destabilizzante, pena nuove sanzioni, c'è anche la firma di Giuseppe Conte. Ma non quella di Donald Trump, che muovendosi veloce sulla superficie con gli zigzag di un surfista astuto, guarda le prossime elezioni mid-term, si copre le spalle dai tranelli che il Deep State continua e continuerà a preparargli, e gioca d'anticipo con alleati casuali, come ad esempio Netanyahu contro l'Iran, senza badare agli effetti di medio periodo. È un elefante nella cristalleria, rompe volentieri quello che gli capita sotto le zampe, ma solo se gli serve a deviare i colpi interni. Nello stesso documento, i quattro membri europei del G7, più il Canada e il Giappone, concordano con l'opinione di Londra che la responsabilità di Mosca nell'avvelenamento degli Skripal sia highly likely, altamente probabile. Intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Pyskov ha fatto sapere che la Russia si sta concentrando su altri formati. D'altronde, come ha precisato il presidente russo Vladimir Putin dalla Cina, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, la Russia non è mai uscita dal G8. Furono i miei colleghi qualche tempo fa a rifiutarsi di venire in Russia, spiega Vladimir Putin e aggiunge, saremmo felici di vederli riuniti a Mosca. Di tutt'altro spessore il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che i mass media hanno definito un'alternativa calma e corretta all'incontro del G7. La differenza, secondo il Global Times, risiede nello spirito di Shanghai, caratterizzato da fiducia reciproca, mutuo beneficio, uguaglianza e dialogo, dal rispetto delle diversità culturali e dalla ricerca di uno sviluppo comune. Riflette il tema di un'epoca in cui l'unilateralismo difficilmente potrà prevalere, scrive il quotidiano cinese. I leader degli stati membri riunitisi nel fine settimana a Zindao, in Cina, hanno accolto con entusiasmo la proposta avanzata dal presidente cinese Xi Jinping di lavorare a stretto contatto per costruire una comunità con un futuro condiviso, per muoversi verso un tipo nuovo di relazioni internazionali e per costruire un mondo aperto, inclusivo, pulito e bello, che goda di pace e duratura, di sicurezza universale e di prosperità comune. A tale proposito, la Cina istituirà uno strumento di prestito speciale equivalente a 4,7 miliardi di dollari nel quadro del consorzio interbancario della SCO. Il presidente russo Vladimir Putin ha aggiunto che il PIL degli stati membri, a parità dei poteri d'acquisto, è già superiore al volume dell'economia del G7, un sorpasso che è stato reso possibile dall'ingresso nell'organizzazione, quali membri a pieno titolo, di India e Pakistan. 17 documenti unitari sottoscritti al vertice, tra cui un piano quinquennale per lo sviluppo delle relazioni regionali e accordi per la lotta congiunta al terrorismo, all'estremismo, alla corruzione e al protezionismo. Allo studio degli stati membri, anche la possibilità di utilizzare valute nazionali negli investimenti e nel commercio. Sul fronte politico, invece, i leader dell'organizzazione hanno invitato la comunità internazionale al rispetto della sovranità della Siria e della sua integrità territoriale, ed esortato tutti i firmatari dell'Accordo sul nucleare iraniano a onorare i propri impegni. L'impegno della Nato deve porre attenzione al fianco sud, da dove provengono importanti sfide per l'Alleanza, a partire dal terrorismo. Ha affermato il ministro della difesa Elisabetta Trenta durante il colloquio avvenuto stamani a Roma con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Poco prima il premier Giuseppe Conte si è così espresso. La Nato ha scelto un approccio a doppio binario nei confronti di Mosca, fermezza e dialogo. Siamo fautori di questo approccio, una linea che confermiamo e che speriamo di vedere costantemente attuata nelle relazioni fra Nato e Russia. Colloqui in vista del vertice dei capi di Stato e di governo della Nato, previsto Bruxelles l'11-12 luglio prossimi. Dal vertice l'Italia si attende una presa di coscienza politica circa la centralità della collaborazione fra Unione Europea e Alleanza Atlantica, prosegue Conte. In ogni possibile circostanza nel comune interesse e la sicurezza. Ma il nodo cruciale rimane quello del budget. In cima all'agenda del vertice vi è il raggiungimento nel 2024 di una più equa divisione della spesa, burden sharing, fra gli Stati membri. Già la settimana scorsa Stoltenberg aveva rimarcato che da Canada e l'Unione Europea si aspetta, entro quest'anno, un aumento della spesa dal 2 al 3,8%. La Germania dedica solo l'1% del PIL alla Nato, mentre gli USA il 4%, tuona Trump con un tweet. Noi proteggiamo l'Europa, il che è bene, ma comporta per noi una grossa perdita finanziaria, per poi essere penalizzati sul commercio. Il cambiamento è in arrivo, conclude Presidente americano. Debacle del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali del 10 giugno. Al nord il Movimento di Luigi Di Maio si ferma quasi ovunque nettamente sotto il 10% e in alcuni casi addirittura sotto il 5%. Al centro e al sud il Movimento 5 Stelle viene più che dimezzato rispetto alle politiche del 4 marzo. Il dato più eclatante è a Roma, dove nel terzo e nell'ottavo municipio, commissariati dopo la caduta delle giunte grilline, i 5 Stelle restano fuori da entrambe le partite. Il Partito Democratico, che parla di effetto raggi, continua comunque ad arretrare in tutta l'Italia, pur potendo ancora recuperare qualcosa ai ballottaggi. La Lega intanto vola, sfonda a nord-est, si consolida al centro, mentre al sud, dove in moltissimi casi correva da sola, ottiene ottimi risultati, perfino migliori di quelli del 4 marzo. La Lega oggi è la prima forza politica italiana. Forza Italia, salvo qualche zona, resta molto lontana dal partito di Salvini. A Brescia gli azzurri non vanno oltre il 7%, con la Lega, che vale quasi quattro volte tanto. Mentre si spengono i riflettori del G7 in Quebec, Trump è già approdato a Singapore, dove ha incontrato il primo ministro Lee e dove domani, martedì 12 giugno, lo aspetta il tanto atteso incontro con il leader nord-coreano Kim Jong-un. Ad anticiparlo, in conferenza stampa, il segretario di stato Mike Pompeo. Trump ha messo in piedi un processo radicalmente diverso da quello che è stato fatto sinora. Staremo attenti a verificare bene i termini dell'accordo, mentre i precedenti presidenti americani sono stati presi in giro da Pyongyang, che non ha mai mantenuto le promesse. Le sanzioni rimarranno in essere fino alla completa denuclearizzazione della penisola. Entrambi i paesi devono avere fiducia uno nell'altro. Sarà un cambiamento storico per questa parte di Asia e per tutto il mondo. Il fulcro dei colloqui sarà definizione, obiettivo e metodi della denuclearizzazione. Da una parte Washington preme per una completa rimozione dell'arsenale nord-coreano, testate nucleari incluse, concedendo agli ispettori della IEA l'accesso al sito nucleare di Yongbyong e ai siti clandestini e consegnando missili e bombe nucleari ai funzionari americani. Dall'altra, Pyongyang confida nell'indebolimento dell'influenza militare statunitense nel sud della penisola, soprattutto con la rimozione del programma ombrello nucleare, nella fine delle sanzioni e nella fine formale della guerra del 50-53. Penso che il minimo sarà stringere un rapporto. Inizieremo perlomeno un dialogo, ha annunciato Trump. Ma le aspettative sono alte, così come sono alti i rischi di tornare sui propri passi in caso di fallimento. Igor Kanashenkov, portavoce del Ministero della Difesa russa, comunica che secondo informazioni ricevute da ben tre fonti indipendenti, il cosiddetto esercito siriano libero starebbe preparando un'operazione speciale, d'accordo con i servizi segreti americani. Operazione destinata a offrire ai media occidentali una nuova accusa contro il governo di Damasco, del tipo bombardamento con armi chimiche contro la popolazione. Contenitori di cloro sarebbero già stati trasportati nella zona di Khalil Jafra, provincia di Deriazor. Saremo a vedere, una cosa è certa, che i russi hanno gli occhi aperti. Prepariamoci dunque all'entrata in campo dei caschi bianchi e dei loro filmati fake. Poi verrà il bombardamento americano sulle posizioni dell'esercito siriano. Europa e Stati Uniti promuovono l'idea di un'operazione militare nel Donbass. Lo ha affermato il Ministero degli Esteri russo sabato 9 giugno, a due giorni dall'incontro previsto per oggi a Berlino del formato Normandia, ovvero Russia, Ucraina, Francia e Germania. Gli eventi recenti indicano che le autorità di Kiev non intendono rispettare gli accordi di Minsk, ne distorcono grossolanamente la logica e la sequenzialità e legano artificiosamente la loro volontà di proseguire sulla via della risoluzione politica del conflitto alla resa militare del Donbass e al controllo dei confini con la Russia. E' quanto si legge sul sito del di Castero russo, che continua. Allo stesso tempo, la parte ucraina non offre alcuna garanzia politica agli abitanti del sud-est, provocando in diversi modi l'aumento delle tensioni lungo la linea di demarcazione e utilizzando ogni occasione possibile per inasprire il blocco economico, commerciale e dei trasporti contro la regione. Ed è su questo sfondo che Washington e Bruxelles promuovono l'idea di un'operazione militare nel Donbass, dove intendono istituire un'amministrazione militare civile internazionale prima dello svolgimento di elezioni locali, in aperto contrasto quindi con quanto stabilito dagli accordi di Minsk. I leader del G7 intanto, a eccezione degli Stati Uniti, hanno legato all'implementazione degli accordi di Minsk l'abolizione delle sanzioni contro la Russia. Definendolo un potente segnale di sostegno da parte dell'Unione Europea, il presidente ucraino Pitro Poroshenko ha affermato che l'Ucraina è una delle priorità fondamentali del mondo libero. Grazie a tutti.